Continua il trend positivo delle vendite per il BMW Group. Anche il mese di febbraio si è infatti chiuso con una crescita a due cifre. Con 111.720 veicoli venduti, BMW Group aumenta del 21,7% le vendite rispetto a febbraio dello scorso anno. Nei primi due mesi i volumi di vendita sono così cresciuti del 24,7% sfiorando le 217.000 unità. In occasione del recente Salone di Ginevra i vertici della casa tedesca oltre a presentare le interessanti novità di prodotto hanno sottolineato come la forte domanda per la BMW Serie 5 per i modelli X e per la Mini Countryman dimostri che le attuali gamme hanno centrato in pieno le aspettative del mercato. Nei tre principali mercati il BMW Group ha ancora fatto registrare forti incrementi nelle vendite. In Germania sono aumentate del 20,8%, negli Stati Uniti del 10,8% e in Cina del 72%. Analizzando i singoli marchi BMW è cresciuta del 21,9%, Mini del 19,3% e Rolls Royce del 276%. Anche il settore moto registra un aumento a due cifre. BMW Motorrad chiude infatti il mese di febbraio con un più 22,5%. Anche per BMW Group Italia continua il trend positivo con i primi due mesi che hanno registrato una crescita del 6,25%, praticamente invariata la quota di mercato per BMW Motorrad Italia. Il BMW Group e PSA Peugeot Citroën investiranno 100 milioni di euro nella loro joint venture dedicata alle tecnologie ibride. L'accordo tra i due gruppi è stato firmato a fine febbraio a Ginevra tra Norbert Reithofer, presidente del consiglio di amministrazione BMW AG e Philippe Varin, presidente del direttorio PSA Peugeot Citroën. La nuova entità opererà a partire da due siti. Uno situato a Monaco di Baviera ospiterà tutte le attività di ricerca e sviluppo. L'altro sarà Mulhouse e si occuperà delle attività industriali. L'avvio delle operazioni è previsto per il secondo trimestre del 2011, mentre i nuovi componenti ibridi, frutto di questa cooperazione, equipaggeranno i veicoli dei due partner a partire dal 2014. Il BMW Group e PSA Peugeot Citroën collaborano con successo da circa dieci anni. Tra il 2006 e il 2010 hanno prodotto insieme più di un milione e 800 mila motori che equipaggiano alcuni modelli mini. Insieme stanno anche sviluppando nuovi propulsori quattro cilindri benzina di nuova generazione, conformi alla normativa Euro 6. BMW Serie 5, un modello elegante, sicuro, dinamico, efficiente e di successo in tutto il mondo. La BMW Serie 5 è un'auto che piace e questo si riflette nei volumi di vendita che sono destinati ad aumentare grazie all'arrivo delle versioni a trazione integrale anche sulle motorizzazioni diesel. Dal mese di ottobre del 2010 la BMW Serie 5 è stata leader del mercato nel segmento premium di auto di classe media superiore. Lo scorso anno ben 211.968 clienti hanno scelto di acquistare una BMW Serie 5. Agli apprezzabili volumi di vendita si affiancano i vari riconoscimenti conquistati in tutto il mondo. La serie di premi internazionali include il Red Dot Design e il titolo di Germany Favorite Car, nonché Car of the Year nel Regno Unito, Portogallo, India, Thailandia, Messico, Nuova Zelanda e altri paesi. Sarebbe troppo lungo elencare gli oltre 70 riconoscimenti conquistati dalla BMW Serie 5. Altri ne arriveranno e nel frattempo la vettura tedesca ha conquistato i migliori risultati nei crash test Euro NCAP ma anche in quelli statunitensi e australiani.